Alla fine lo strappo c'è stato. Matteo Salvini ha cacciato il sindaco di Verona, Flavio Tosi, dalla Lega. Sono costretto a prendere ato delle decisioni di Tosi e quindi della sua decadenza da militante e segretario della Liga Veneta. Lo ha fatto con una nota alla stampa lanciata da Strasburgo alle 22 di ieri, dopo un'ennesima giornata di trattative per ricucire la frattura tra il ribelle e il carroccio. Non era passata nemmeno un'ora dall'intervista di Tosi a Lilli Gruber ed evidentemente quello che ha detto il sindaco non è bastato al segretario. Sulle liste una soluzione la si trova. Basta che si tolgano dei vincoli che di fatto sembrano fatti apposta per dire guarda Flavio Tosi o accetti dei vincoli che per te sono umilianti altrimenti te ne vai fuori. Quello che è disposto a concedere è un passo indietro sulla presentazione di una lista che porta il suo nome in appoggio a Zaia alle regionali di maggio in Veneto, ma alle condizioni imposte dalla Lega per la sua permanenza nel partito continua a dire no. No al commissariamento della Liga Veneta e no alla rinuncia alla sua fondazione e ricostruiamo il paese. La vicenda è andata troppo oltre per Salvini che al terzo rinvio della scadenza rischierebbe di perdere credibilità e con sette ore di ritardo rispetto all'ultimatum procede e annuncia lo strappo. Dopo 25 anni di impegno nel carroccio Flavio Tosi è fuori dalla Lega ma non dalla politica. I suoi movimenti in vista delle regionali potrebbero attrarre il centrodestra moderato che non ama la linea anti-euro di Salvini e ricompattare vecchie amicizie come il nuovo centrodestra, i fittiani di Forza Italia o anche l'Italia unica di Corrado Passera. Per ora chi sorride è Luca Zaia, la buona notizia dice è che si mette fine a veghe che sono durate fin troppo.